Ha sottratto una borsa ad una signora ma è stato fermato dopo un breve inseguimento da un poliziotto in Borghese. Il fatto è accaduto a Via Ragone, a Cava dei Tirreni, intorno alle 19 di martedì sera. A finire in manette è stato un ragazzo di 17 anni colto nella fragranza del reato di Scippo. Il giovane malvivente ha avvicinato una signora 78enne, seguita per un lungo tratto, mentre percorreva a piedi Via Ragone, a pochi passi dal centro, e con una mossa fulminiale ha strappato la borsa. All'intera scena, tuttavia, aveva assistito un agente cavese della Polizia Giudiziaria di Napoli, libero dal servizio, che dopo essersi sincerato delle condizioni della donna, si è subito messo all'inseguimento del ladro, che nel frattempo si era liberato della rifruttiva per strada. La fuga del ragazzo è durata poche centinaia di metri. L'agente in Borghese lo ha bloccato e ha allertato i colleghi del commissariato di Corso Palatucci, che a corsi sul posto lo hanno subito arrestato. La borsa è stata restituita alla donna.